Questi ragazzi ogni volta sui campi gara e per arrivarci a questi campi gara percepiscono. Ognuno di noi ha un sogno, tutti voi avete l'esempio, è difficile molte volte realizzarli. Per questo non vuol dire che la difficoltà nel realizzarli vi renda impossibile da essere raggiunto. Perciò dalle esperienze nostre abbiamo tirato su, abbiamo buttato fuori, abbiamo scritto dei progetti che servono poi con dei corsi didattici a tentare di superare queste difficoltà. Perché tutto all'inizio sembra una cosa difficile, complicata. Questo che diceva il professore era in mondiale, questo è il terzo che facciamo. All'inizio quando siamo partiti in una piccola isola senza soldi, pochi ragazzi, senza attrezzature, siamo partiti praticamente da zero. Arrivare a fare tre mondiali dove i nostri ragazzi hanno partecipato, fatto bella figura, credo che sia un modo per arrivare e raggiungere gli obiettivi. Grazie. 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 Tutto ciò cercheremo di rendervelo fluibile, indellegibile, con delle immagini e l'intervento dei ragazzi.